La domenica è fatta per riposare? Assolutamente no, soprattutto se in questo fine settimana si svolgeva una mostra Ubi, è la venticinquesima e si è svolta a Reggio Emilia, un paio di orette di macchina da dove abitiamo io e il mio compagno, quindi questo fine settimana o meglio questa domenica ho trascinato il mio compagno a Reggio Emilia. La mostra è stata meravigliosa e per chi appunto non è riuscito a partecipare ho deciso di registrare le piante che c'erano lì e di postarle proprio oggi, quindi vi lascio al video e buon buon sei a tutti, oltre che buona domenica, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!